Siamo arrivati dall'Italia Milano, chiamata Danyo. Voglio ringraziare il suo lavoro e il suo lavoro. Buon pomeriggio a tutti, sono Daniele Solari, direttore di Anger Design Group, un'agenzia creativa internazionale con quartier generale Venezia, ufficio Milano, Shaddai in New York. Sono il direttore della filiale di New York, dove lavoriamo per aiutare le imprese a crescere il loro brand e fare comunicazione. Grazie per avermi invitato qui, Mr. Sol. Ok.